Siamo in una settimana particolarmente delicata, qualche ulteriore consiglio ai bagnanti, ai diportisti e soprattutto penso sia importante ripetere il solito appello a rivolgersi alla Guardia Costiera in caso di difficoltà. Sì, partendo proprio da quest'ultimo punto, ricordo il numero, il 1530, che è il numero di emergenza in mare, il numero in cui bisogna chiamare nel caso in cui ci sia una problematica risponderà alla nostra sala operativa della direzione marittima della campagna e poi sulla base della chiamata dove l'emergenza si interviene. È importante avere un comportamento corretto, un comportamento in mare, un comportamento anche molto attento sia nel momento in cui si svolge la balneazione, quindi nel rispettare i limiti della balneazione, quindi entro i 200 metri dalla costa, sia per tutte le unità da diporto e qualsiasi altra unità che naviga nel nostro mare. Quindi rispettare i limiti di navigazione, andare a velocità moderata e in particolare per quanto riguarda i diportisti stare oltre i 300 metri dalla costa, in maniera tale che tutto si possa svolgere in totale sicurezza, sia la balneazione che anche la semplice navigazione da diporto, quindi usufruire del mare nella piena completezza. Quella della distanza dalla costa, si tratta di un tema molto importante per l'isola Dischia che per la sua conformazione presenta tantissime baie, tantissime calette, spesso nascono anche le ire dei bagnanti che vedono queste barche, però è qualcosa sulla quale voi state intervenendo, è un tema sul quale siete presenti? Sì, siamo molto presenti su questo tema proprio per garantire la sicurezza della balneazione, delle volte notiamo tanti diportisti che non sono informati, non hanno conoscenza purtroppo di queste norme semplici, di conseguenza cerchiamo sia di fare un'attività di vigilanza e controllo, ma soprattutto anche un'attività di informazioni su quelle che sono le regole della navigazione all'interno in particolare dell'area marina protetta del Regno di Nettuno. Immagino che poi per il Ferragosto ci sarà anche un potenziamento di quelle che sono le risorse a vostra disposizione. Sì, proprio in vista di Ferragosto metteremo a disposizione tutti i mezzi nautici in mare proprio per andare ad intensificare l'attività di vigilanza e controllo, ma soprattutto, come dicevamo prima, la finalità ultima è quella di poter far usufruire a tutti in maniera corretta del mare. Quindi vi sarà un incremento sia per quanto riguarda terra, sulle spiagge, ma anche in mare con l'attività di vigilanza, con le nostre motovedette.